UltraFab, un laboratorio di ricerca e sviluppo per le aziende, nato da forti esperienze di sviluppo software industriale, per concentrare competenze spesso non disponibili in azienda, IoT e robotica tra le linee di sviluppo. Tesis Parma, che fa della comunicazione digitale tra pubblica amministrazione e cittadino e il suo business di riferimento, puntando come fattore di differenziazione sul branding delle app come prodotto turistico. WiseTown, che ha sviluppato una suite di applicazioni per gli enti locali, che fa dell'integrazione con i software esistenti e delle funzioni di GeoAnalytics, raccolte e analisi dei dati, il suo punto di forza. Le demo di AfterFestival 2017, Modena. Grazie.